A Frassinetto questa sera è stato presentato il Passioni Festival edizione 2022, Marco Meacci è colui che ha creato questo importante appuntamento culturale. Quale sarà il contenuto dell'edizione di quest'anno? Quest'anno festeggeremo la decima edizione del Passioni Festival, che sicuramente è un grande risultato per una manifestazione come questa. La festeggeremo alla grande dedicandola totalmente a uno dei più importanti, più influenti intellettuali della seconda metà del Novecento, che è Pierpaolo Pasolini. Per cui sarà dedicata a Pierpaolo Pasolini nel centenario della nascita e sveleremo anche questo straordinario rapporto che Pasolini aveva con la città di Arezzo. In particolar modo l'influenza che le opere di Piero da Francesca, gli affreschi della Cappella Baccia hanno avuto su Pasolini, in particolar modo sul cinema di Pasolini e nello specifico sul film Il Vangelo secondo Matteo. Perché Pasolini, fine anni Sessanta, nel Sessantanove, veniva ad Arezzo, veniva a trovare il suo amico Ninetto Davoli, che faceva il militare in città, e poi insieme andavano a vedere gli affreschi di Piero. Pasolini era un grande amante dell'arte, della storia dell'arte, per cui si è fatto influenzare, si è fatto ispirare da Piero da Francesca, soprattutto dagli affreschi per il film Il Vangelo secondo Matteo. E noi parleremo molto anche di questo, in una grande mostra alla fortezza medicea, la fortezza di Arezzo, al Prato, per capirsi, e poi con tanti eventi, con Ninetto Davoli, che tornerà ad Arezzo, a Scania Celestini, Fulvio Abbate, Tommaso Cerno, il professor Brille e tanti altri. Sarà l'occasione per riscoprire uno dei più grandi intellettuali italiani del secondo novecento? Sì, anche perché, come faceva notare qualcuno, in queste settimane, in questi mesi, questo è l'anno del centenario della nascita di Pasolini, si continua a parlare, perfino a commentare, a parlare degli articoli di Pasolini, soprattutto quelli che scriveva per il Corriere della Sera negli anni 70. Oggi non si commentano più gli articoli dopo una settimana. Quelli di Pasolini ancora si commentano, se ne parlano, fanno opinione, fanno discutere. Per cui Pasolini è una figura straordinariamente cogente, presente nella vita e nel dibattito italiano. E noi porteremo anche alla scoperta di questo rapporto con la pittura di Piero della Francesca, ma anche di tanti aneddoti che la città di Arezzo ha vissuto. Fra gli altri, un ritratto che abbiamo ritrovato, grazie alla collaborazione di una persona, di un disegno che è siglato proprio per Paolo Pasolini, che è della casa di un aretino. Ricordiamo, dal 25 al 30 Arezzo sarà interessato da questo nuovo appuntamento con il Passioni Festival. Sì, diventerà una piccola capitale, con tutti i limiti del caso, in quei giorni, della figura di Pier Paolo Pasolini. E proprio il festival si chiama Da Piero a Pier Paolo, Da Piero da Francesca a Pier Paolo Pasolini. Partiremo il 25 sabato mattina in Fortezza con l'inaugurazione di questa grande mostra evento che ha costumi di scena originali recuperati a Roma nelle sartorie romane del film, con le foto di scena del Vangelo secondo Matteo direttamente a Sceniteca di Bologna, da alcune ricostruzioni digitali degli affreschi, dai costumi, dagli abiti che il liceo artistico Pier Paolo Francesca ha riprodotto. E poi continueremo la domenica all'Eden, sempre a ingresso gratuito, con il film Il Vangelo secondo Matteo. Ci sarà anche il saluto iniziale del Vescovo di Arezzo e poi martedì con Fulvio Abbatte, Tommaso Cerno, Nieto Davoli e a seguire. Al Passioni Festival anche il registra Alessandro Perrella, che è stato allievo di Pasolini, presenterà un documentario su Piero della Francesca. Ecco, il documentario su Piero della Francesca riguarda la leggenda della vera croce e che forse molti sanno, ma anche molti non sanno, il perché Piero ha realizzato questi affreschi sulla leggenda della vera croce da Jacopo da Varagine affrescando il tutto in Oriente. Quindi è fascinoso da questo punto di vista. Molto brevemente, Piero nel 1439 si trovava a Firenze, in occasione del concilio di Firenze, 1439 appunto, perché lì si doveva ricongiungere la chiesa d'Oriente con la chiesa d'Occidente. E quindi Piero ha visto camminare 2-3 mila persone vestite in quel modo e poi le ha affrescate. Era giusto per raccontare questa storia. Che dire, è un motivo di orgoglio conoscere Piero perché Piero arricchisce, ma arricchisce culturalmente in un modo spaventoso. E poi declinarlo e coniugarlo con Pasolini che è stato uno dei più grandi uomini di cultura del secondo novecento a livello europeo e non solo a livello italiano. Questo è motivo d'orgoglio. Pasolini che poi prese ispirazione da Piero della Francesca. Sì, doveva girare questo film. Questo film ha una storia molto importante perché per la prima volta creava un incontro tra il cristianesimo e il marxismo. Quindi era fondamentale e importante. E per fare questo aveva bisogno di assoluta originalità. Questa originalità gli venne data dai costumi e dai suggerimenti ricevuti da Piero della Francesca. Con il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli a ricordare una data importante, cioè il fatto che questo Passioni Festival sia arrivato alla decima edizione. È arrivato alla decima edizione, crescendo di anno in anno e portando ad Arezzo una delle più belle manifestazioni culturali, sicuramente la più interessante. Sono arrivati artisti, intellettuali, scrittori. È una manifestazione che è nata un po' per gioco, un po' per passione appunto e che invece è cresciuta di anno in anno. Quest'anno poi ci fa anche scoprire una cosa, a mio avviso, molto interessante. Celebrando Pasolini nei suoi cento anni dalla nascita scopriamo anche come Pasolini sia stato di fatto influenzato nella sua attività intellettuale, culturale da Piero della Francesca e che questa contaminazione sia avvenuta o perlomeno sia sicuramente iniziata qui ad Arezzo. E questo è un valore aggiunto che porta a questo Festival quest'anno che ancora una volta si avvale della presenza di tanti, tantissimi artisti. Questa è una riscoperta finalmente dei grandi intellettuali del secondo novecento, Pasolini, finito purtroppo tragicamente. Sì, purtroppo è finito tragicamente, è stato come dire una persona intellettuale che probabilmente per i tempi in cui esprimeva le proprie idee probabilmente si scontrava anche con un'opinione pubblica, con una congiuntura che non era probabilmente pronta per quelle che erano le sue idee e che invece sono state di un'acutezza, sono state di una lungimiranza veramente straordinaria. Comunque credo che oggi ricordarlo sia veramente un fatto molto importante e anche in questo caso grazie al Passioni Festival.